Ciao a tutti ragazzi siamo tornati su Modern Combat 5 pronti per un'altra partitozza siamo nel museo questa volta in una partita tutti contro tutti vediamo cosa riusciamo a fare in questa mappa che tra l'altro non conosco ancora benissimo cioè un po' la conosco ma non riesco ancora a farci diciamo un po' di strategie nel senso vado di qua al posto di là insomma vado un po' a cazzo detta come va detta e quindi adesso vediamo vediamo cosa riusciamo a fare oh qua in fondo oh venga a prendere è bello stai tranquillo che sto arrivando stai tranquillo adesso arriverà il tuo momento attenzione ciao babbo natale sei un po' in anticipo sai con gli addobbi oh e che cazzo devo usare il coltello devo usare il coltello devo usare il coltello lo so cioè non ci voglio credere non me l'ha dato a me ti sta bene ti sta bene ti sta bene è arrivato questo fresco fresco dall'alto sempre devi morire no no non ci voglio credere veloce sto bastardino qua no non ci voglio credere che culo mi è capitato proprio come caccio sui maccheroni devi morire cacchio non ci voglio credere non ci voglio credere 7 a 7 siamo questa partitozza non sta andando tanto bene non sta andando come vorrei non 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 a sacchetto di carta vieni giù vieni giù volevi fare il furbo no e dai mi stavo imboscando no partita terminata ragazzi partita terminata finisce così siamo sul podio comunque con 15 uccisioni non è andata poi così male 15-10 però è stata veramente dura ma è stata veramente proprio dura bene 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 ok ce ne spariamo un'altra ragazzi speriamo di andare sul scattare anche sui canali non è male anche sui canali non è male in effetti va bene dai siamo sui canali in tutti contro tutti siamo pronti il supporto militare non è disponibile durante le partite tutti contro tutti meno male se no sarebbe un macello si parte ragazzi re di nazione re di nazione faccio il mio logo ragazzi ok lo sapevo che ti beccavo a te lo sapevo che ti beccavo oh oh l'ha lanciata meglio lui no e dai sto cazzo di coltello porca troia scusate ragazzi coltello 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 niente coltello ragazzi non funziona devo provare a impostarlo in un altro modo porca miseria che nervoso che nervoso niente coltello affanculo il coltello muori cazzo anche tu devi morire adesso a te ti venga a prendere non ti preoccupare occhio letale lo faccio ingoiare l'occhio così va così va così va così di merda questa partita muori che cazzo anzi andiamo di qua non Sì. C'è troppa tranquillità qui C'è troppa Muori a sacco de carta Per non dire altro Ok ragazzi Non sei solo un po' teso Non sta andando come vorrei 8.000 colpi E lui Trac Messo a colpo Messo a segno E vabbè dai Ci sta c'è chido Almeno uno Me lo fai ammazzare Eh Cacchio Vieni qua Commando Veni se riesci a coprirti con questa Va Mori 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 In questo fottuto casino E se è arrivato Amico frizzi è arrivato Guardalo quanto è bello Mancano 30 secondi Al termine Ormai i giochi sono fatti Ragazzi Mori 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 coltello coltello cacchio coltello devo rimpostare il coltello ragazzi perché non funziona io non so cosa cacchio succede ok è stata una partita di cacca proprio di cacca proprio di quelle deludenti proprio però va bene dai va bene anche questo ogni tanto ci sta niente ragazzi concludiamo qui questa partitozza noi ci vediamo al prossimo appuntamento spolliciate se vi è piaciuto lo sclero il video e ci vediamo al prossimo appuntamento ciao a tutti ragazzi complimenti hai terminato la visione da questo momento hai 10 secondi per fare la tua scelta